Bentornati sul canale, dalla Fara da Fuzz. Oggi torniamo a parlare di migrazioni nell'alto medioevo, ma lo facciamo alla luce di nuovi studi sul DNA. Come sempre bentornati, vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti e in descrizione trovate come diventare Patreon e abbonati se voleste supportare la complessa attività divulgativa e ricostruttiva della Fara. Se non sapete cosa facciamo, trovate un video descrittivo qui sul canale e i link a tutti i nostri social, Instagram e Facebook. Siamo un gruppo piuttosto strano e ci occupiamo principalmente di Longobardi in Italia fra la fine del VI e l'inizio del VII secolo. Allora, agli iscritti al canale, come è andata questa fine dell'anno? Siete sopravvissuti? Avete dovuto vedere un sacco di gente? Ormai siamo nel 2025 e questo sarà il primo contenuto di questo anno che prende spunto da una pubblicazione che è uscita proprio nei primi giorni del nuovo anno. Sulla rivista Nature, infatti, è stato condiviso un articolo riassumente uno studio sul DNA antico inerente proprio il periodo che va fra l'età delle migrazioni, in realtà leggermente prima, e la cosiddetta Eta e Vichinga, che focalizza la sua attenzione principalmente sul nord e centro Europa, allargando però il suo sguardo anche sull'est e sul sud in alcuni casi. Ora, perdonerete il gobbo qui alla mia destra, ma i nomi sono veramente nuovi per me, non li ho incontrati fino ad adesso, e mi pare giusto quantomeno citare il leader di questa ricerca, che è una ricerca internazionale con componenti inglesi, svedesi, mi pare anche giapponesi, ma non sono sicuro, perché sì, al giorno d'oggi le cose si fanno bene e si fanno approfondite, si fanno internazionali, non se si resta nel nostro giardinetto. Ma detto questo, ecco, Pontus Skoglund è il leader di questo gruppo di ricerca, che ha dedicato appunto gli ultimi suoi sforzi proprio a un'analisi comparata sul DNA antico e ha una nuova tecnica di deduzione dei dati da questo. Ora, io non mi inoltrerò in questa specifica questione tecnica, non è la mia competenza. Io ho una laurea in beni culturali, non sicuramente in biologia o genetica. Speriamo che canali specifici di divulgazione scientifica, come ad esempio Entropy for Life, che andremo, perché no, a tagliare nella descrizione, magari possa creare un contenuto specifico per spiegare come funzioni questa tecnica di indagine. L'articolo, l'articolo vero e proprio, che trovate qui in descrizione, linkato, gratuitamente scaricabile, dedica molto tempo a questa descrizione, ma appunto sarei un mero lettore. Quindi ci dedicheremo invece più ai riflessi storici e interpretativi di questi nuovi studi e di queste analisi. Ultima nota, sempre biografica. Nell'immagine di copertina vedete una commissione di un'ipotetica pietra runica vichinga con la doppia elica del DNA umano. L'autore è Oliver Huberti e questa immagine è stata scelta proprio come copertina del primo numero del 2025 di Nature. Ora, veniamo all'argomento vero e proprio, e anche perché nel titolo del video troviamo goti, longobardi e vichinghi. Forse, non ho ancora deciso il titolo definitivo. Bene, sostanzialmente questa analisi ha individuato nuovi moti migratori, non esplicitamente noti, nel mondo appunto dell'Europa alto-medioevale. In genere, diciamo, fra il Tardo Antico e l'Alto Medioevo con definizioni italiane. Fra la prima età del ferro scandinava e l'età vichinga con definizioni invece nord-europee. Sì, perché dovete sapere che l'età del ferro in Italia ha una datazione cronologica, l'età del ferro scandinava né a un'altra, quindi dobbiamo sempre stare attenti un attimo a questo parallasse, errore di parallasse fra le due definizioni così simili. Fatto sta che il nocciolo della questione è che il gruppo di lavoro di Skoglund identifica almeno tre movimenti migratori che interessano successivamente i primi secoli dell'era cristiana, l'età delle migrazioni vera e propria e poi l'età vichinga. Normalmente, quando noi parliamo di questo periodo storico, tendiamo, beh, lasciamo stare al fatto che in Italia lo chiamiamo ancora invasioni barbariche, ma tendiamo a focalizzare molto la nostra attenzione sui movimenti migratori che dal nord-Europa o dall'Europa centrale, della Germania libera, tentano di entrare nel territorio del vecchio o ancora presente, a seconda del periodo storico, impero romano d'Occidente. Ecco che questo studio genetico sposta l'attenzione invece dal sud al centro-nord Europa, mostrandoci alcune dinamiche che non conoscevamo e che soprattutto aiutano una rilettura di quelle fonti storiografiche antiche, pensiamo alle storie Longobardorum per i Longobardi, ma pensiamo anche alle origini dei Goti o ad altre storie dell'epoca che spesso negli ultimi decenni sono state fortemente criticate dalla storiografia. Mi spiego. In grandissimi soldoni, alleggo un'immagine tratta dall'articolo, i movimenti migratori registrati sembrerebbero tre. Uno, il più antico, che dalla Scandinavia e dal nord dell'Europa muove verso il centro Europa. Il secondo, che fra l'età delle migrazioni e l'inizio dell'età vichinga, dal centro Europa risale verso la penisola scandinava. e poi quello tipico dell'epoca vichinga che si irradia tutto attorno proprio per le caratteristiche proprie dell'epoca. In particolare, il secondo movimento, quello di ritorno, è molto interessante perché viene riconosciuto come un cambiamento genetico all'interno delle popolazioni del nord Europa e del sud della Scandinavia, influenzate dalle popolazioni del centro Europa. Al contrario, il primo movimento, quello che dalla Scandinavia muove queste popolazioni verso il centro-sud Europa, per la prima volta sembra confermare, con dei dati scientifici e genetici, quello che le antiche fonti ci riferivano, ad esempio, all'origine dei goti, o, perché no, a quella dei longobardi. Come chi segue questo canale ben sa, nella seconda metà del ventesimo secolo, diverse scuole di pensiero storiografico hanno messo fortemente in dubbio l'attendibilità delle fonti tradizionali, l'istoria langobardorum, per citarla di nuovo, ma anche appunto l'origine dei goti, eccetera, dicendo che la nascita delle popolazioni in Scandinavia era più un topos letterario, in particolare per i longobardi, che si sarebbero rifatti a quella dei goti, che a loro volta non era attestata e che quindi sarebbero arrivati da questo mitico e mitologico nord, ma che in realtà avrebbero avuto un'etnogenesi più tarda, quella più tarda di tutti, proprio quella dei longobardi nel quinto secolo in Pannonia, e che nulla aveva a che fare con la terra madre citata dalle loro stesse mitologie. Ecco che invece questo movimento genetico registrato dalla Scandinavia e dal nord Europa, quindi fra la parte bassa della Scandinavia, la Danimarca, il nord della Germania, combacia proprio invece con queste narrazioni. Ad esempio, questo primo movimento, quello più antico, che si irradia dal nord verso il centro, mostra anche la presenza di popolazioni germaniche in, o meglio, di popolazioni con degli antenati scandinavi, anche nel nord, anche nell'est Europa, dove poi, dal punto di vista genetico, questa eredità verrà completamente sostituita da quella successiva di Cerpo Slavo. Ecco però che in quest'ottica l'arrivo dei goti dal nord, dal nord scandinavo, diventa plausibile, confrontato con i nuovi dati genetici. Il particolare interessante è che gli autori stessi si spingono a voler vedere una corrispondenza fra questo primo moto centro Europa, est Europa, nord occidente ed Europa, che combacia con l'espandersi dei parlanti di lingue germaniche. nei tre ceppi, orientale, centro nordico e occidentale, che poi avranno storie completamente differenti, pensiamo a quell'orientale che si perde completamente. Ecco che quindi in quest'ottica questo primo studio identifica già una interessantissima per noi cultori dell'alto medioevo coincidenza di descrizione o di dati, se vogliamo, con quelle che erano poi le fonti narrative coeve di queste popolazioni. in più la presenza di individui con antenati in parte di origine scandinava arriva proprio fino in Italia e in realtà già prima dell'epoca longobarda probabilmente proprio con l'immissione di popolazioni di origine gota e poi nel VI secolo o ancora maggiormente con l'arrivo della popolazione longobarda. Esiste un piccolo paragrafo dedicato ai longobardi in questo testo in cui si sottolinea come le analisi che suppongo facciano riferimento più o meno allo stesso pool di indagini utilizzato dagli studi del gruppo di lavoro che noi conosciamo attraverso l'opera di divulgazione della professoressa Caterina Giostra dell'Università Cattolica di Milano ecco all'interno di questo pool di indagini genetica si riscontra come la popolazione longobarda si fosse già in parte mischiata non con gli autoctoni del sud dell'Europa ma con quelli del centro Europa di nuovo a sottolineare quello che lo stesso Paolo Diacono ci dice dicendo che quando i longobardi arrivano in Italia portano con loro altre popolazioni raccolte durante la migrazione e anche nella fase leggendario-mitologica dell'istoria longobardorum troviamo questo contro-iscontro con altre popolazioni ad esempio contro i vandali o contro popolazioni ipotetiche come gli assipiti di nuovo questi nuovi studi della genetica sembrano più favorire l'attendibilità per quanto romanzata delle fonti dell'epoca piuttosto che le riletture contemporanee che le volevano tutte falsate e utilizzate a fini etnogenetici cioè di creare una nuova nascita una nuova identità di una popolazione fino ad allora inesistente la parte interessante poi e innovativa arriva a questo punto quando nel credo 2018 io ho avuto la fortuna di parlare all'università di Malmo ho definito i longobardi come i ritardatari dell'epoca delle immigrazioni e questa ottica ancora oggi valida riguarda soprattutto un punto di vista mediterraneo-centrico romano-centrico i longobardi sono gli ultimi a derivare delle popolazioni germaniche gli ultimi a stabilirsi e gli ultimi a creare un regno romano barbarico sì ma tutto quel complesso sistema di migrazioni equilibri di potere all'interno del mondo germanico e continentale e scandinavo non era scomparso solo che noi normalmente smettiamo di interessarcene ecco che proprio durante l'epoca delle migrazioni le popolazioni del centro Europa che avevano visto nei secoli precedenti l'arrivo di una migrazione scandinava risale verso nord andando a interessare proprio quella fascia fra il nord della Germania la Danimarca il sud della Svezia che probabilmente sancisce il punto di origine tanto dei gotti quanto dei longobardi con l'arrivo di popolazioni provenienti dalla Germania centrale dall'Europa centrale in senso lato probabilmente parlanti però idiomi di origine germanica che siano stati spinti dall'avanzata slava da est è possibile quando noi nell'istoria longobardorum vediamo lo scontro con gli slavi è sempre leggermente successivo l'arrivo dei longobardi in Italia ma centrale negli anni del regnum e quindi quella pressione potrebbe essersi fatta molto sentire altre cose potrebbero aver mosso altri motivi potrebbero aver mosso queste popolazioni noi non le conosciamo fatto sta che intorno a questo periodo cambia nuovamente il pool genetico nel nord Europa con l'immissione di queste popolazioni del centro che a loro volta erano state in passato toccate dall'arrivo delle popolazioni del nord quindi in uno scambio volendo in un ritorno e alla fine poi con l'inizio dell'era vichinga che possiamo indicativamente far partire dall'assedio di Lindisfarne se vogliamo essere proprio così puntare a una data ma genericamente da quel periodo storico vediamo invece l'irradiarsi di queste popolazioni attorno al bacino europeo in senso sia da un senso lato sia appunto di vista oceanico che da quello continentale e al loro interno il pool genetico sembra essere appunto differenziato da quest'ultima migrazione di ritorno appena avvenuta cioè giusto prima dell'età vichinga e quindi danesi svedesi del sud mostrano la presenza di questo arrivo di popolazioni del centro Europa mentre svedesi del nord e norvegesi paiono essere stati meno toccati cosa ci racconta tutto questo? beh ci racconta di un'Europa molto movimentata di un movimento migratorio complesso ci racconta dell'attendibilità almeno in parte dei miti fondanti di queste popolazioni germaniche e ci ricorda che abbiamo sempre tantissimo da scoprire tantissimo da imparare e che spesso le conclusioni che traiamo in determinati momenti della nostra storia contemporanea sono parziali perché ancora prive di informazioni quindi evitando di fare sensazionalismo come alcuna stampa inglese che ho visto scrivere i vichinghi in realtà tornavano solo a casa perché all'interno di questo studio ad esempio viene citato come un gladiatore o soldato romano in Britannia avesse il 25% di antenati scandinavi e che quindi i vichinghi fossero solo loro che tornavano ecco evitando queste letture completamente romanzate e sbagliate possiamo però affascinarci e perderci nell'immagine di un'Europa continentale molto più complessa molto più intricata molto meno lineare di quella che ci piacerebbe e ci semplificherebbe la vita a riconoscere parlando delle migrazioni ma a noi che su questo canale se siamo qui lo si è per quello appassionati dell'epoca lungobarda della cultura lungobarda una cultura europea strettamente interconnessa dalla Scandinavia all'Italia dalla Slovacchia all'Inghilterra e con rapporti continuativi non un'unica linea di movimento ma uno scambio un movimento costante continuo determinato da macro movimenti storici che fanno dell'alto medioevo ancora una volta la vera nascita dell'Europa speriamo di avervi interessato alla prossima e mandi grazie a tutti Grazie.